presentiamo a radio incontro Lady Mick con il suo nuovo singolo ciao, ciao Lady ciao, buongiorno a tutti il nuovo singolo si chiama Cioccolatino e lei è nella vita Michela Sbrizai in arte invece Lady Mick benvenuta a radio incontro innanzitutto ci racconti questo nuovo Cioccolatino e intanto grazie a voi per avermi chiamato per avermi ospitato Cioccolatino è un brano ironico e molto malizioso che è nato per far ballare durante l'estate e praticamente parla di un ragazzo che studia sotto l'ombrellone e Lady Mick praticamente si fa i suoi pensieri ma sono solamente dei miraggi niente di sporco e niente di che comunque è molto ballabile questo è un brano più malizioso e ironico e ballabile da Giorgia Brunello è stato girato sul Brenta nel Veneto e spero che a tutti piaccia infatti sta andando molto bene tutte le radio lo trasmettono e sono contenta è un gioco di parole questo Cioccolatino una ventata di una fresca sì è un po' malizioso ma però non c'è niente che faccia intuire a certe cose invece è malizioso e ironico perché io dico sempre che nella vita bisogna essere anche un po' ironico senza malizia non si va avanti chi la capisce poi chi non la vuol capire sono problemi loro alla fine di simpatia dai mettiamolo ogni tanto certo il video è stato registrato con chi? con la MML production e mi hai detto è stato girato in Veneto sul Brenta sul Fiume Brenta l'ombrellone con il ragazzo è lì? sì è lì è lì però sono tutti i miraggi di Lady Micca alla fine tutti i pensieri suoi anche nella canzone precedente erano tutti comunque pensieri di Lady Mic per me sono tanti episodi di cui Lady Mic porterà con la musica parliamo un po' di te chi è Lady Mic? chi è Lady Mic? sì Lady Mic è una persona normale che piace la musica che piace comunque un po' travisare tra le righe e niente di che mi piace proprio spaziare con la musica tanti progetti nella sua testa di cui sicuramente li porterà li realizzerà pian piano e vuole solo portare allegria a quelli che la ascoltano prossimo pezzo già in programma già in embrione sicuramente c'è sicuramente già c'è già il progetto perché sai benissimo che ci vuole un po' di tempo per le canzoni no? bisogna fare il progetto poi valutare se vanno bene le cose se va male si cambia e comunque sì è già in progetto mai fermarsi mi trovate su tutte le piattaforme musicali TikTok, Facebook, Spotify su tutto su Youtube ecco quindi non ti faccio la domanda che stavo per farti di dare i tuoi contatti social perché hai detto che comunque ti trovano dappertutto basta digitare su internet Lady Mick esatto mi trovate ovunque ecco Mick scritto con la K con questo tormentone estivo cioccolatino com'è? Mick scritto con la K esatto M-I-K e l'Adi grazie Michela noi ci sentiamo grazie a voi al prossimo singolo grazie gentilissima un abbraccio buona giornata buona estate ciao ciao lui non balla fa la sociale sembra di stare di me una riccione maschio alfa ricciolone le geni sotto l'ombrellone occhialino da cabogiro sull'addominale mi faccio un panino all'improvviso viene vicino e dice io voglio essere il cioccolatino che inzuppi al mattino che inzuppi al mattino e dice io voglio essere il cioccolatino che scarti e che mangi per starmi vicino che caldo che caldo che fa questa sera che bella d'acqua la tua schiena sembra Notre Dame andiamo via da qua se questa notte non ci basta non ci basta più guardo il panorama dal vetro dei Ray-Ban portami a vedere cosa sai far solo tu sale sulla pelle il mare che mi prende portami a vedere cosa sai far solo tu e dice io voglio essere il cioccolatino che inzuppi al mattino che inzuppi al mattino e dice io voglio essere il cioccolatino che scarti e che mangi che scarti e che mangi per starmi vicino che inzuppi al mattino e dice io voglio essere il cioccolatino che inzuppi al mattino che inzuppi al mattino e dice io voglio essere il cioccolatino che scarti e che mangi per starmi vicino l'uomo che inzuppi al mattino che inzuppi al mattino Grazie a tutti.